Abbiamo un R con T che seppure in crescita è ampiamente sotto 1, sta a 0,89, purtroppo in crescita rispetto allo 0,65 di fine anno e quindi dobbiamo continuare a tenere alta la guardia, a mantenere i comportamenti responsabili, a fare il massimo sforzo possibile perché questa zona gialla possa restare e durare nel tempo. Abruzzo finalmente è stabilmente in giallo, dopo il semi-lockdown di novembre e il braccio di ferro sulla zona arancione dell'Immacolata, condito poi dal DPCM che ha messo tutta l'Italia in zona rossa fra Natale e l'Epifania, dopo quasi due mesi la regione torna ad una pseudonormalità sebbene permanga il divieto di spostamento tra le regioni, almeno in attesa del nuovo DPCM di metà gennaio. I numeri dei contagi e dell'RT sono in risalita e quindi non fanno dormire i sonni tranquilli perché la soglia di uno che fa scattare la zona arancione è a un passo e ne sanno qualcosa le cinque regioni, Calabria, Emilia-Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto, che sono state declassate proprio oggi al termine della cabina di regia. A proposito di numeri quelli odierni dell'emergenza Covid in Abruzzo, vedono una leggera discesa del tasso di positività al 7-8% rispetto circa il 10% di ieri. Infatti sono 160 i nuovi casi di Covid accertati, di età compresa fra gli 1 e i 93 anni. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 9 nuovi casi e sale a 1.274. I casi sono di età compresa fra i 61 e i 96 anni, ma tre decessi risalgono a giorni precedenti e sono stati comunicati solo oggi dalle Asle. Continua il trend di crescita dei ricoveri arrivati a 480 più 2 rispetto a ieri, mentre resta invariato a 36 con tre nuovi ricoveri il numero delle persone in terapia intensiva. Altri 10.576 meno 227 sono invece in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asle. Totale dei positivi oltre quota 37.000 da inizio emergenza, numero nel quale sono compresi anche 24.672 dimissioni o guarigioni più 374 rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono 11.092 meno 225 rispetto a 24 ore fa.